del Consiglio, buonasera a tutti gli assessori e ai consiglieri comunali presenti, sia in maggioranza che in videoconferenza. Premetto che sono davvero orgogliosa come donna salernitana e come avvocato di intervenire in questo consenso e di contribuire come capogruppo di Salerno con voi all'azione amministrativa. Azione amministrativa che vede la nostra forza politica pienamente e organicamente all'interno di questa maggioranza che ha sostenuto e continua fortemente a sostenere il Sindaco Vincenzo Napoli e che ha contribuito alla sua netta affermazione alle recenti elezioni. Auguro a tutti un buon lavoro e in particolare auguro buon lavoro a tutte le donne presenti in Consiglio Comunale. Donne che come me hanno scelto liberamente di impegnarsi in politica e farlo per la loro città, per i loro figli e che domani tutte insieme e realmente, a prescindere dalla coalizione e dalla colorazione politica, festeggeranno il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Mi fa piacere ricordare questa occasione che Salerno con voi, durante la campagna elettorale, in via Trottola del Ruggero, quindi la via intitolata alla prima donna veneto salernitana, ha lanciato un messaggio di emancipazione per le donne salernitane, proprio contro la violenza sulle donne. Oggi più che mai è necessario intervenire creando quelle opportunità che mettano tutte le donne in condizione di realizzarsi personalmente e professionalmente. Il mio augurio è che questo impegno sia condiviso, come sicuramente lo sarà, con tutte le donne presenti in questo Consiglio Comunale. L'impegno ad educare, ad informare le giovani donne alla libertà di scegliere come vivere, come accompagnarsi e soprattutto la libertà di scegliere chi ha scegliere. Oggi dobbiamo ricordare che le giovani donne domani saranno le madri dei nostri figli ed è importante che la nostra comunità investa proprio sui suoi figli. Grazie.